...insidie. È sua quella macchina? Sì, perché? La sposti immediatamente. È in sosta vietà. E ho tratto il pudore, allora. Scende immediatamente in nome della legge. E intanto mi dia una mano uscire di qua per... Lo sigo. Ecco. Oio! Ecco. 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 Lola, che voglia? No, fermati, ma cosa fai? Lo facciamo subito, no? Lo facciamo qui, eh? Ma che cosa? Io lo faccio nel vestito, ma come che cosa, zaccati? Le pilele mi stanno per fare affetto, anzi mi stanno facendo affetto! E poi, Lola, io ti amo! Ma in fondo io non sono sicura del tuo amore, che prove mi hai dato, scusa? Ma come che prove ti ho dato? Ma se appena mi hai chiamato io sono corso qui come uno stupido e ho fatto cento piani a piedi con l'ascensore! Lola, io ti metto qui, io voglio vivere con te, io ti voglio sposare! Sai che faccio? Mi recente in apertura e con la liquidazione ti porto dove vorrai! Vuoi andare a Nolulu? Eh, e si va a Nolulu! A Tahiti, e si va a Tahiti! Milano Marittima! Milano Marittima! Sei pronta ad esaudire ogni mio desiderio? Quello che vuoi! Intanto, togliti i calzoni! Chi è, Liliana? Posso dormire qui con te? Eh, ma io veramente stavo... Ho paura dei mostri della tv! Dei mostri? Io te l'avevo detto! La mamma mi fa dormire sempre con lei quando ho paura! E vai dalla mamma allora! Stasera dorme fuori, lo fa spesso! Tu non hai un figlio? Io? No! Purtroppo! Allora, facciamo finta che io sia il tuo bambino e tu la mia mamma! Eh, sì, sì! Io faccio la tua mamma e tu fai il mio bambino! Ciao! Grazie per la visione!